In questo nuovo video parleremo di carboidrati e attività fisica. I carboidrati, come già accennato in altri video precedenti presenti in questo canale, sono delle molecole indispensabili per la vita e rappresentano la primaria fonte energetica del corpo umano. I carboidrati, specie quando svolgiamo un'attività motoria, devono essere assunti con una certa grammatura anche in tutte quelle attività anaerobiche, anzi soprattutto in quelle attività anaerobiche. Dobbiamo ricordare che più l'intensità dell'esercizio fisico tende ad alzarsi, più la concentrazione di glicogeno muscolare tende a ridursi rapidamente. Se noi immaginiamo ad un pesista che utilizza principalmente l'ATP, che verrà poi ripristinato dalla fosfocreatina, non possiamo però prescindere dal quantitativo di glicogeno e quindi tradotto di zucchero presente all'interno della nostra fibra muscolare. Lo zucchero infatti è importante, il carboidrato è importante in generale per apportare idratazione all'interno delle cellule. Oggi diverse ricerche, tra cui una ricerca del 2002, ha dimostrato come soprattutto negli sport anaerobici si tenda ad avere un introito di carboidrati molto più basso rispetto a quello che sarebbe il range considerato ottimale. Ed è così che chi svolge un'attività moderata durante la propria settimana, stiamo parlando di circa un'ora al giorno di allenamento, dovrebbe assumere dai 5 ai 7 grammi di carboidrati per chilo di peso. In conclusione, prima di eliminare o ridurre drasticamente i carboidrati, dobbiamo anche prestare particolare attenzione, se siamo sportivi, al mantenimento della corretta prestazione, proprio perché un abbassamento dei carboidrati durante la nostra giornata potrebbe anche abbassare la performance e quindi la buona riuscita dei nostri allenamenti. A presto! A presto!